Per quanto riguarda il coinvolgimento, adesso il protocollo è stato sottoscritto da un'enorme quantità di associazioni di categoria, di amministrazioni, però è un progetto che non può cadere dall'alto, questo deve avere anche il coinvolgimento dei cittadini o sbaglio? È condizionato il coinvolgimento dei cittadini e delle varie comunità, perché poi sono comunità molto diverse, stiamo parlando di una provincia intera, e la nostra provincia è ricca di identità, diverse tra loro, molto diverse tra loro, pensiamo al Centese e al Comacchiese come due parti di un territorio simili, ma completamente diverse dal punto di vista proprio identitario e di significato storico. La buona notizia che posso dare da questo punto di vista è che abbiamo appena scoperto di aver vinto un bando importante, che è il bando Climate Kick, con appunto Landscape Metropolis, bisogna scriverlo in inglese, metropoli di paesaggio e questo bando riuscirà a darci un minimo di finanziamenti per uno studio di fattibilità compreso di business plan su un'area abbastanza grande dell'intera provincia, che in un qualche modo rispecchi il funzionamento della visione nel suo insieme e al tempo stesso dei finanziamenti per iniziare il dialogo con le comunità e quindi quel processo partecipativo, non retorico, attenzione perché non dobbiamo fare della partecipazione un processo retorico, la partecipazione serve a capire quali sono le esigenze dei singoli individui, delle singole comunità e a rielaborarle all'interno dei progetti, non sono le comunità che progettano, quella è un'altra cosa. Quindi questo a noi serve intanto per spiegarci bene, c'è un filmato, un cartone animato che abbiamo realizzato, che abbiamo realizzato anche e soprattutto con le competenze della mia collega architetto Elisa Uccellatori e che spiega molto bene cos'è Metropoli di Paesaggio, lo spiega in italiano, lo spiega in inglese, probabilmente... Perché c'è un sito che si chiama Metropoli di Paesaggio. Sì, c'è anche un sito adesso che si chiama Metropoli di Paesaggio, che non vuole essere un sito vetrina, ma un sito di raccolta delle informazioni dei singoli comuni. Dicevo che questo filmato probabilmente lo tradurremo, tra virgolette, anche in dialetto ferrarese, perché è importante capire che non stiamo costruendo un'utopia, ma stiamo costruendo un progetto che andrà ad incidere sul quotidiano delle persone. E lo devono capire tutte le generazioni. Assolutamente. Quando voi parlate di dialetto mi viene da pensare che non serve soltanto l'inglese, che è parlato poco in Italia, soprattutto dai giovani, mentre invece il dialetto è lingua comune. È assolutamente lingua comune e deve continuare ad esserlo. Ma detto questo, le ricadute di un progetto di questo tipo, come diceva Chiara prima, sono ricadute nel tempo breve e nel lungo periodo, quindi ci sono diverse velocità da governare. Ma sia nel tempo breve che nel lungo periodo avremo delle ricadute dal punto di vista economico molto importanti, perché solo la ricucitura e la ricostruzione di tratti riciclabili, di tratti spondali, la gestione di una flotta e quant'altro, vorrà dire che darà lavoro a una molteplicità di imprese distribuite sul tutto il territorio, in modo capillare. E la seconda parte, che è quella della rigenerazione territoriale, di cui quella mobilità sostenibile diventa premessa e non appendice, darà luogo ad ulteriori interventi di recupero di immobili su tutta la provincia.